Sono circa 900 i detenuti nelle carceri del Friuli Venezia Giulia a fronte di una capacità complessiva di quasi 550 posti. Questi numeri relativi alla situazione dei penitenziari nella nostra regione, luoghi di detenzione che in questi giorni vengono visitati da parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali. Oggi è toccato a Udine, come riferiremo poi nella pagina del Tg Friuli, mentre ieri era la volta del carcere di Pordenone. Una visita che ha messo ancora una volta in risalto vecchi problemi mai risolti, tenendo conto che è già stata definita l'area in cui dovrà sorgere il nuovo penitenziario, una volta che da Roma arriveranno i fondi necessari all'edificazione della struttura. Anche la provincia, dal canto suo insieme al Comune e alla Regione, si è dichiarata disponibile nel partecipare alla spesa, ma quella che manca al momento è la fette più consistente della torta. Ieri in carcere a Pordenone ci sono andati, solo per visite ovviamente si intende, il consigliere regionale dei cittadini Piero Colussi, il sindaco di Zopola, nonché il consigliere provinciale Angelo Masotti e infine Stefano Santarossa, dei radicali italiani che abbiamo qui in studio con noi questa sera. Santarossa, ieri commentando con Piero Colussi, ha lasciato una dichiarazione dicendo che non c'è notizia, in effetti questa visita in carcere sembra ormai diventata un rito, perché alla fine non cambia assolutamente niente. Le condizioni del carcere di Pordenone lo conoscono anche i muri di tutta la città, perché è una situazione ormai sotto gli occhi di tutti, la visita viene fatta puntualmente ogni anno in questo periodo estivo. Non dimentichiamo che sono venuti anche i ministri a vedere questa situazione, nulla è cambiato. Perché allora questa visita? Per fare che cosa? Ma questa è una visita che sta all'interno di un'iniziativa più generale che riguarda tutte le carceri italiane. La prima volta che avviene nel nostro paese, che è in corrispondenza a Ferragosto, tutte le carceri sono state visitate da parlamentari, da consiglieri regionali, proprio per redigere un quadro dello stato delle carceri. Quindi si tratta di portare i numeri e anche una sorta di sintesi di quanto sia grave lo stato di illegalità delle carceri italiane. Però Santero, se lei le avesse consegnato quello dell'anno scorso sarebbe stata esattamente la stessa cosa, cioè quindi non trovavo la, mi scusi la brutalità, la necessità di andare in carcere per vedere che cosa? Una cosa che era esattamente quella dell'anno scorso, quella di due anni fa, quella di tre anni fa. Lì la situazione è sempre quella. Ma noi l'anno scorso abbiamo avuto una polemica, se si ricorda l'anno precedente lo stesso, proprio perché dubitavamo sul fatto che sia possibile allo stato attuale avere dei fondi per finanziare le carceri e la costruzione di nuove carceri. La situazione è di fatto fuori controllo, non solo a Pordenone ma anche in altre zone e questo serve a motivare scelte diverse, scelte che si potevano fare, si potevano essere fatte un mese fa, due mesi fa, quando su indicazione proprio del gruppo radicale è stata portata avanti una misura per consentire ad esempio agli detenuti all'ultimo anno di stato detentivo di poter trascorrere l'ultimo anno gli arresti domiciliari, proprio per consentire di dare respiro alle carceri italiane. Come avviene negli altri paesi? Guardate che in nessun paese europeo c'è una situazione del genere, per cui se lo Stato non è in grado di garantire condizioni accettabili di vita all'interno delle strutture, non può costringere il detenuto oltre alla situazione di detenzione anche ad una tortura maggiore che quella di vivere in condizioni assolutamente inumane. Per questo serve l'iniziativa radicale che proprio con questo dossier lo porteremo a livello internazionale per denunciare lo Stato di illegalità totale. Questo però è uno squarcio su una illegalità che è solo nelle carceri, è lo specchio di un paese dominato dalla partitocrazia, la partitocrazia stessa che quando ci promette il carcere in comina sa benissimo che non potrà poi portare avanti questo progetto. Uno Stato di incapacità che deriva proprio da uno Stato ingessato dove destra e sinistra sono per me alla pari. Quindi serve una riforma e serve una riforma della giustizia perché anche quello che è emerso dalla visita che buona parte, un 40% dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio definitivo. Quindi di fronte a 11 milioni di processi pendenti, alla prescrizione che di fatto è un'amnistia di massa per chi può permettersela, perché chi può permettersi di pagarsi gli avvocati alla fine non viene condannato e non sta in carcere perché ha i soldi per portare avanti i processi. Questa è la vera vergogna, cioè l'amnistia di classe, di massa che di fatto discrimina le persone sulla base del censo. Bene, grazie quindi a Stefano Santarossa.